Luigi Di Maria annuncia il funerale del ristorante a Colle dell'Orso, sabato 20 agosto. Un proclama solenne, clamoroso, malinconico, dopo aver fatto arrivare a Frosolone circa un milione di turisti in 22 anni di attività. Con tanto rammarico, ma voglio almeno lasciare questo posto con un segnale forte. Mi piacerebbe il 20 agosto creargli il funerale alla Tana dell'Orso, cioè invitare tutte le persone che effettivamente volevano bene a questo posto, portarli qua sopra, brindare al funerale della Tana dell'Orso, perché sono convinto che la Tana dell'Orso non si riaprirà mai più. Questa è la sua decisione finale, ma senza rassegnazione. Di Maria nel frattempo ha aperto l'Orso delle Vigne a Colle Morello di Acquevive di Frosolone, un locale già meta di tanti ospiti che grazie alle numerevoli iniziative estive dagli stessi ideate, lo avevano conosciuto in questa zona dell'Auto Molise, scoprendo paesaggi, bellezze naturali, la gastronomia molisana e le sue straordinarie tipicità. Adesso un luogo completamente abbandonato con erbacce, una volta meta di migliaia di ospiti, di avventori, che sono passati qui per degustare le specialità della Tana dell'Orso, di Luigi Di Maria, le scamorse, i caciocavalli, le manteche, tutti i prodotti della tradizione frosolonnese. E da quello che possiamo adesso vedere sul posto, oggi siamo al 10 agosto, a quest'ora qui ci dovevano essere migliaia di persone che frequentavano tutta l'area di Colle dell'Orso, non solo la Tana dell'Orso, possiamo ben vedere chiaramente che non c'è nessuno, ormai tutto quel flusso di gente che frequentava questo posto ha cambiato itinerari, ha trovato altri posti sicuramente, in barba di tutto ciò che è stato fatto negli anni, da chi ha speso i propri soldi, i propri impegni, i propri tempi. Ma questo segnale io vorrei farlo arrivare a tutti i nostri politici, che si sciacquano bene la bocca nel dire turismo, sviluppo, posti di lavoro. E qui c'era tutto questo, io per 25 anni ho fatto tutto questo e ancora di più, non solo io, con la mia famiglia, con i nostri sudori, il nostro lavoro. Invece questo è stato in qualche modo cancellato in un attimo, perché nel 2012 un'amministrazione che io dico incapace, irresponsabile, ha annullato tutto in una notte. La decisione giunge dopo una lunga controversia con il Comune di Frosolone per opere edilizie realizzate nel 1990 su una struttura già esistente. Il Tribunale di Sernia nel 1997 emanava un'ordinanza di abbattimento e l'amministrazione protempore di quel periodo iniziava un itiner, mai concluso, per acquisire la struttura nel patrimonio comunale. Per tanti anni questa attività ha potuto funzionare, ha dato lavoro a tante persone, con tutti gli errori possibili, per carità. Tutte le autorità principali hanno passato in questo posto, ci sono state a pranzo, a cena, a festeggiare. E poi di punto in bianco nessuno conosce più Colle dell'Orso, nessuno ha voluto trovare la soluzione a questo problema, che io tuttora non riesco ancora a capire qual è il mio danno, qual è stato il mio errore, perché poi avere delle responsabilità e non sapere quale so è ancora peggio. Qui alle mie spalle Luigi aveva organizzato e costruito una sorta di fattoria didattica dove dentro vi erano caprette, pecorelle, conigli e i bambini venivano sistematicamente a vedere quello che c'era insieme ai genitori. Era un altro motivo per attrarre turismo qui a Colle dell'Orso. Di Maria lascia Colle dell'Orso a malincuore inevitabili ricordi di tutti quegli eventi che animavano le belle estati molisane. Non dimentichiamo la Corsa degli Asini, la Treccia da Guinness, la Vacca Argentina, ma tanti eventi. Durante gli anni e ogni anno ho creato cose nuove. Tutto oggi, in qualsiasi posto, uno va e parla di Frosolone, subito la gente collega a questo posto, alla Tana dell'Orso.